Ciao a tutti, Neymar Strunianca! Facciamo il corso Matteo Pertini Saludiamo tutto lo staff La novità, la donna Wicke E facciamo un applauso La azione di Begamo! Amici sportivi, amanti della grande pallavolo Buon pomeriggio! Con una coppola, a una crucia Begamo! Con una scena a la tappa 2-9, Camino! Perciò! 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 Sì, cazzo, sei cattive cazzo, convinte? Perché giochiamo in due allora? Dai cazzo, sono lì quello! Sì, cazzo, sono lì! E anche sulle seconde palle andiamo a spingere, loro stanno tutti corti in difesa, le palle lente non cadono, quindi anticipiamo con il braccio e spingiamo, veloce! Ok, andiamo, andiamo, andiamo! E partiamo nelle mani con la nostra curva! Grazie! Grazie! Grazie!